Buongiorno a tutti, benvenuti a quest'ultimo webinar della serie TamTanTalks 2021 organizzata appunto da General Italia. Oggi concludiamo in un ciclo iniziato a ottobre con Barbara Larsson che ci ha portato attraverso un discorso, un percorso relativo a quello che sta accadendo nel mondo del lavoro sempre più ibrido, che è il tema chiave ripeto di quest'anno e oggi concludiamo idealmente questo percorso sui nuovi scenari del mondo del lavoro con l'intervento di oggi che sarà un approfondimento e un focus su quello che sta succedendo oggi in Italia. Non voglio sprecare ulteriore tempo, cedo la parola a Maurizio Pescarini, CEO e General Manager di Genertel e Genertel Life. Buongiorno Maurizio, grazie per questo. Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono molto contento di vedervi perché sono un grande appassionato dei nostri Tam Tam Talk, in particolare del tema di cui abbiamo parlato nelle scorse sessioni di cui parleremo oggi in particolare con il professor Corso e cioè del lavoro ibrido. Ibrido per me vuol dire un incrocio, una mescolanza, un accostamento tra cose tra di loro anche apparentemente molto diverse se ci pensate. Quando si parla di lavoro ibrido si pensa naturalmente come prima cosa al tema del lavoro a distanza e del lavoro in presenza. Io vorrei però prima di entrare nel merito di questo tema allargare un attimo questo concetto perché secondo me l'ibridazione investe il nostro modo di lavorare anche su diversi altri aspetti. Il primo è l'ibridizzazione dei contenuti, cioè se pensate per esempio a quello che stiamo facendo in Genertel o che forse avrete anche visto su giornali e in altre comunicazioni è molto difficile definirlo in maniera chiara, cioè riguarda il prodotto, riguarda i processi, riguarda le interfacce, riguarda la tecnologia, riguarda secondo me tutto quello che è esperienza e cliente e in questo le componenti che ho citato si mescolano e diventano un tutt'uno. Altro ambito di ibridizzazione è quello delle competenze, cioè ormai secondo me è impensabile credersi solamente business o solamente IT all'interno del modello organizzativo, soprattutto nel nostro settore che è quello finanziario dove se ci pensate bene i prodotti alla fine sono costituiti da formule e da interfacce, quindi bisogna saper conoscere entrambi gli aspetti, il business deve capire di IT e l'IT deve capire di business. Altro aspetto è quello dell'approccio dove strutturazione e creatività non sono più antitetici come una volta, quindi non ci sono più da una parte i creativi e dall'altra parte quelli che fanno solo PMO, se ci pensate ci sono molti metodi di lavoro, avrete sentito parlare del design thinking, del Six Sigma, ce ne sono diversi, tutti validi per dare struttura a processi di lavoro, però vorrei che fosse ben chiaro che se all'inizio del processo di lavoro ci buttate dei povere, sicuramente alla fine del processo vi ritroverete con un'idea molto meglio strutturata ma ancora povera e quindi queste due componenti devono compenetrarsi tra di loro. Altro aspetto è quello di librizzazione dei profili, cioè una volta le figure professionali erano molto standardizzate, si lavorava in waterfall, oggi non è più così, oggi c'è bisogno di nuovi ruoli professionali che spesso stanno a cavallo tra diverse figure, anche di profili personali e culturali molto diversi fra di loro che portino al tavolo punti di vista sul mondo, in generale sulle cose anche contrastanti e diversi che consentono di arricchire la discussione della squadra. Ultimo punto che mi piace toccare è quello dell'ibridizzazione della leadership, cioè il leader oggi non è più solo quello che sta in alto e prende le decisioni, ma è qualcuno che piuttosto sa creare un giusto blend tra capacità di disegnare una visione e convincere le proprie persone a seguire quella visione e la capacità di portarla avanti con un'execution sfrenata e anche con soft skill quali empatia, pazienza, giustizia e grande volontà di fondo di far crescere le proprie persone dandogli quello che gli serve singolarmente per avere successo in azienda. Oggi con il professor Corso affronteremo un aspetto specifico di quello che chiamiamo ibridizzazione, non è che appunto il mix tra lavoro a distanza e quello in presenza, vorrei solo stressare che il lavoro in modalità ibrida inteso appunto come mix tra ufficio e casa di per sé secondo me non inventa delle nuove competenze manageriali e organizzative ma richiede piuttosto un ulteriore rafforzamento di quelle buone capacità manageriali di leadership che comunque si devono avere anche nel lavoro full in presence. Il lavoro ibrido o se ci pensate non consente di compensare o talvolta di credere di poter compensare alcuni aspetti del nostro lavoro quotidiano con la presenza fisica, tutto il tema della delega, dell'empowerment, della comunicazione, della fiducia, dell'organizzazione del team e del tempo, del focus anche sulla trasparenza, sull'autodisciplina delle persone che quando non si lavora in presenza diventano strettamente necessari. Questo modello secondo me offre a noi stessi, alle nostre persone una maggiore autonomia, un maggior investimento anche sulla nostra vita privata fuori dall'ufficio con la possibilità di costruire un modus operandi nuovo anche qua mixando per esempio diverse velocità di lavoro, il sincrono con l'asincrono, ma il tutto sempre basato su quello che io chiamo responsabilità autodisciplinata, quindi un lavoro indipendente dal concetto di tempo e spazio dove appunto il lavoro è qualcosa che uno fa e non un posto dove uno va. Grazie ancora per avermi ospitato e ripasso la parola a Corrado e al professor Corso. Grazie Maurizio, grazie a te per questo primo slancio per l'inizio di questo incontro molto interessante. Prima di cedere la parola al relatore di oggi è necessario reintrodurre, so che molti hanno già familiarità con queste, delle regole fondamentali del gioco per meglio sfruttare questo appuntamento. In primis che è possibile cambiare la lingua di ascolto premendo il bottone che vedete in alto a sinistra sulla vostra piattaforma, allo stesso tempo trovate già disponibile il bottone per sottoporre le domande che poi andremo a commentare insieme all'ospite di oggi nella seconda parte dell'incontro. In ultimo vedete già il bottone dei poll, a differenza del solito i poll sono già direttamente inclusi nella presentazione dell'ospite di oggi che li andrà a presentare, a commentare direttamente durante la sua presentazione. Lato vostro il tool si usa esattamente alla stessa maniera. Detto questo passiamo all'ospite di oggi, oggi è un piacere dare il benvenuto al professor Mariano Corso, professore di Leadership and Innovation alla School of Management del Politecnico di Milano, nonché responsabile dell'osservatorio sullo smart working sempre del Politecnico, quindi assolutamente centrato rispetto all'argomento di oggi. Buongiorno professor Corso. Buongiorno e grazie di questo invito. Le ultime parole, prima di cedere la parola appunto a Mariano che ringrazio nuovamente. L'incontro di oggi come dicevo è la prosecuzione naturale dell'incontro con cui abbiamo iniziato con Barbara Larson, tant'è che il suo intervento di oggi è lavoro, aziende, società, il futuro ibrido, i nuovi modi di lavorare insieme. Non voglio sprecare ulteriore tempo, grazie Mariano, a te la parola. Grazie Corrado, grazie anche a Maurizio, ho preso appunti durante il suo intervento, tanti spunti interessanti. Allora, parliamo quindi di nuovi modelli per il lavoro del futuro, parliamo di come è cambiato il nostro modo di lavorare negli ultimi anni con questa grande accelerazione che abbiamo subito durante l'ultimo anno e mezzo. Quando io rifletto su quello che è successo mi torna alla memoria questo film per quelli della mia generazione, per la verità anche quelli della generazione precedente, questo è stato un cult movie, molti di voi lo ricorderanno, agli altri consiglio di smettere di guardare questo talk e andare subito a vederlo, ed è un mercoledì da Leoni, Big Wednesday, e parlava di questo gruppo di surfisti su una spiaggia della California che aspetta, tende la grande onda, ci si allena per la grande onda, in qualche modo non si vede l'ora che arriva, poi quello che succede Big Wednesday, un grande mercoledì, è che l'onda arriva, però quando l'onda arriva ci si rende conto che la sua intensità, la sua forza è tale che ci si scopre in realtà impreparati. Ecco, io credo che sia un po' quello che è successo a molti di noi per quanto riguarda il mondo dell'organizzazione del lavoro, io per quasi 30 anni ho studiato i nuovi modelli di organizzazione del lavoro abilitati dalle nuove tecnologie, questo anche a livello internazionale, e ricordiamo che ci sono, non è qualcosa che abbiamo scoperto negli ultimi due anni, è qualcosa che per anni è stato sviluppato in contesti diversi, c'è un po' di Babele, di Torre di Babele, c'è un modello che è tipico del UK, di Olanda, della Germania, che è quello del flexible working, in cui il tema fondamentale è quello della conciliazione, l'enfasi è molto quella della conciliazione, c'è il modello americano del working from home, che poi assomiglia al modello francese, del telelavoro, e poi molti paesi nordici con cui per anno abbiamo studiato il mobile working, ecco in Italia ciò che noi chiamiamo come, che chiamiamo smart working, tra l'altro il mio osservatorio dieci anni fa introdusse questa definizione, questo concetto è qualcosa di un po' diverso, è un modello organizzativo, un modello organizzativo che è basato su un concetto semplice e potente, cioè il fatto di dare ai lavoratori maggiore autonomia nella scelta degli spazi, degli orari, degli strumenti di lavoro, chiedendo a fronte di questo maggiore responsabilizzazione sui risultati. E questo è stato, come qui lo definisco, un'utopia che si è dimostrata possibile negli ultimi dieci anni, grazie anche a gruppi, a imprese pionieristiche, tra quali sicuramente voi, con cui abbiamo dimostrato, si è dimostrato che un modo diverso di lavorare è possibile e anche incredibilmente efficace. Bene, cosa è successo? Poi è arrivato il Covid ed è stato veramente quello tsunami, quella grande onda di cui parlavo poco fa e ha cambiato forse per sempre quello che è il nostro modo di lavorare. E lo vediamo, il fatto che sia stato uno tsunami possiamo vederlo anche dal punto di vista numerico. Qui vi presento dei risultati molto nuovi perché li abbiamo presentati poi in anteprima la settimana scorsa. Piccolo flashback su quello che era successo nel 2020, improvviso passaggio dai circa 600 mila del pre-pandemia a un'incredibile rampa in poche, in realtà in una settimana, oltre 6 milioni e mezzo di lavoratori da remoto. In Italia avevamo questo framework anche giuridico dello smart working che ci ha consentito un piccolo vantaggio e soprattutto lo ha consentito a quelle aziende come la vostra che si erano preparati managerialmente, culturalmente, tecnologicamente. E poi cos'è successo? Beh, quando la lockdown e poi la pandemia ha cominciato apparentemente a ridursi, oggi c'è stato un po' di rientro ma poi non tantissima e poi la realtà di quest'anno. Dopo un primo trimestre in cui avevamo comunque un fortissimo livello di remotizzazione del lavoro, c'è stata una progressiva riduzione, oggi comunque oltre 4 milioni. Vedete, sono state diverse anche le reazioni da parte della grande impresa che ha cercato di consolidare rispetto ad esempio all'APA che ha progressivamente ridotto il ricorso allo smart working. La cosa interessante che volevo opporvi è quali sono i programmi. No, mentre in alcuni comparti, ad esempio nella pubblica amministrazione, si ritiene che un po' si vada ulteriormente a smorzare questo trend che quindi è stato un po' assimilato a una gestione emergenziale, per quanto riguarda soprattutto la grande impresa, ma anche la piccola e media nel privato, c'è una tensione, una volontà di portarlo in qualche modo a regime, farne un vero modello organizzativo post emergenza. Quindi qualcosa di importante su cui interrogarsi e cominciamo a farlo anche con voi. Io farei, Corrado, se sei d'accordo, una prima domanda. Assolutamente, la leggiamo già a schermo la prima domanda, i partecipanti possono già vederla e già rispondere, come detto in precedenza. La prima risposta è, rispetto alla tua esperienza lavorativa negli ultimi mesi in remote working, ritieni che il lavoro da remoto abbia la continuità nello svolgimento... Abbia garantito. Abbia garantito, scusate il typo, la continuità nello svolgimento delle tue attività. Prima risposta, sì, sono riuscito a svolgere tutte le mie attività da remoto, sì, tuttavia non ho potuto svolgere una parte delle mie attività da remoto, oppure no, non sono stato in grado di svolgere la maggior parte delle mie attività. Cosa ne pensi da questo punto di vista? Cosa ti aspetti? Ma io so già la risposta. Giustamente dall'osservatorio. Ma sì, ma in realtà secondo me è uno degli elementi su cui abbiamo avuto apprendimento. Qui è evidente che non è stato qualcosa di voluto, è stata una gestione emergenziale. E noi abbiamo raccolto dati su un larghissimo panel di aziende, però volevo andare a fare un confronto su quello che voi qui percepite. Magari aspettiamo ancora 10 secondi per raccogliere le risposte. Ok, ci dicono che sono pronte, quindi magari mostriamo appunto le risposte. Vediamo subito. Vediamo se c'è stata una sorpresa, diciamo così. Ok, chiedo alla regia di... Arrivano subito. Nel frattempo magari volevo chiederti, visto quello split che ci hai mostrato, piccole e medie imprese, grandi imprese, ti aspetti che questa difficoltà nell'affrontare lo smart working abbia avuto una distribuzione diversa tra le realtà? Assolutamente, perché il vero tema, al di là di un tema tecnico, che ovviamente dipende un po' dal settore, dal tipo di attività, il vero vincolo è un vincolo legato alla cultura organizzativa e manageriale, ciò che rende difficile lavorare per obiettivi. Ci sono tanti contesti in cui si dice, ma da noi è impossibile lavorare per obiettivi. Questo, quando io sento queste affermazioni, evidentemente, da ingegnere c'è sempre qualcosa che mi... Nel frattempo sono i pronti risultati. Oh, ecco lì. Diciamo che c'è stato un landslide, direbbero gli inglesi, il risultato di un 87% delle persone ci dicono, sì, siamo riusciti a svolgere le attività. Sei sorpreso da questo risultato? Era quello che attendevi? Era quello in cui speravo, perché essendo generali è stato uno dei primi aziende con cui abbiamo sperimentato tutto questo, ero certo che da voi questo trend fosse stato ancora più forte. Ecco, è impressionante, il 90% quasi di voi che dicono, in realtà, pur non completamente preparati, pur in una condizione di emergenza, la resilienza è stata impressionante. La famosa utopia possibile di cui parlare è stata possibile. È un'utopia molto possibile, molto possibile, perché poi l'utopia noi l'avevamo sperimentata per lavorare un giorno, due giorni alla settimana, ma pensare che fosse possibile un switch off così veloce, così repentino, effettivamente è andato questa grande onda. Ecco, non è così sorprendente, quello che avete dimostrato, e ne ero sicuro, è di essere un tantino più avanti della media delle aziende, ma vedete, in realtà, soprattutto per quanto riguarda il privato, che è la barra più chiara, vedete che la media è stata dell'80, voi siete arrivati addirittura al 90%. Quindi, grande, grande resilienza. Pensate davvero che cosa sarebbe accaduto se lo stesso fosse accaduto, questo stesso tragedia, questo stesso fenomeno, fosse accaduto solo 10 o 15 anni fa. sarebbe stata un'ecatombe incredibile in termini economici e o sanitari. Ma, detto questo, al di là dell'emergenza, per poter davvero apprendere, per poter consolidare questo apprendimento, dobbiamo chiederci, ma è stato vero smart working? Cioè, non è che questa situazione forzata ha fatto mancare alcuni elementi fondamentali, ad esempio, la mancanza della possibilità di scegliere. Smart working vuol dire poter scegliere, in funzione degli obiettivi, qual è il luogo migliore per lavorare. E questo non sempre è stato possibile. Poi, quel graduale percorso di cambiamento degli strumenti manageriali, organizzativi, evidentemente, non è stato possibile nel corso di un weekend. E, beh, che cosa è stato questo periodo? Beh, innanzitutto è stato un periodo di apprendimento, di apprendimento forte, sia per quello che, al netto della resilienza, al netto dell'emergenza, abbiamo scoperto con piacevolezza, con piacere di riuscire a fare in modo diverso, ma, a mio parere, è stato anche preziosissimo, perché abbiamo scoperto anche tante cose che, beh, che da remoto non riusciamo a fare con la stessa efficacia. Abbiamo rimpianto quei contesti di socializzazione che sono un po' tipici dello stare insieme in ufficio, ai quali magari non davamo la giusta attenzione. Allora, quello che è importante oggi è capire sia quello che non vogliamo tornare a fare nel new normal, su cui non vogliamo recedere rispetto a questo apprendimento, ma anche, credo che sia importantissimo, capire, alla luce di questo apprendimento, cosa è veramente importante fare assieme. E il vero smart working nella nuova normalità dovrà proprio essere una composizione più intelligente di queste opportunità, di queste possibilità. E quindi capire come ripensare e riprogettare il contesto della nuova organizzazione del lavoro. Ecco, sarà importantissimo anche, in questo momento è fondamentale, in questo esercizio di apprendimento e riprogettazione, fare, porre anche grande attenzione su quei fenomeni di overworking e tecnostress che rischiano di essere collegati ai nuovi modelli di organizzazione del lavoro. In realtà noi abbiamo presentato nei dati la settimana scorsa alcune evidenze che ci dicono che in realtà overworking e tecnostress non sono legate solo al lavoro da remoto, ma sono legate più in generale anche a dei fenomeni molto connessi a quello che è stata la pandemia, in quello che è adesso una competizione nuova e anche una forte incertezza a livello ambientale. Detto questo, sicuramente ci sono fenomeni su cui sia a livello individuale che a livello organizzativo dobbiamo porre grande attenzione. Ad esempio, tutto il tema del usare in modo intelligente la connessione, la tecnologia, laddove il lavoro, l'organizzazione del lavoro ci permette di prescindere da paletti, da vincoli legati ai muri, agli orologi, noi dobbiamo essere in grado di avere una disciplina personale nel lavoro che sostituisca questi paletti convenzionali dei paletti invece che progettiamo e organizziamo noi. e questo vuol dire stare attenti all'overworking conoscendo anche il nostro bioritmo della produttività perché non è vero che lavorare sempre, lavorare ad ogni orario aumenta la nostra efficacia oltre a non aumentare sicuramente il nostro benessere. E poi il tecnostress, cioè sapere come un uso equilibrato, intelligente della tecnologia può consentirci di rispettare anche noi stessi, la nostra salute e quella degli altri. Quindi temi nuovi su cui abbiamo tantissimo oggi da imparare e questo è il momento di farlo. Detto questo, quale sarà lo smartworking? Che cosa avremo a fine pandemia? Anche qui presento risultati molto nuovi. Vedete un po' di differenza. Sulla sinistra vedete le grandi imprese. Nelle grandi imprese la risposta è chiara. C'era già in molte grandi imprese già un orientamento forte verso questi nuovi modelli di organizzazione del lavoro. Beh, adesso evidentemente si procede con grande convinzione. Quindi lo smartworking sarà in larghissima misura non solo presente ma anche formalizzato e strutturato meglio. Nella piccola e media impresa c'è stato un salto. Però resta, guardate, quella zona rossa vuol dire una zona dove si ritiene non attuabile il nuovo modello di organizzazione del lavoro per vincoli che sono spesso più culturali e manageriali che non tecnici. E allora su questo dobbiamo interrogarci perché evidentemente si rischia di anche innescare, introdurre delle nuove disparità. E infine la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione colpisce soprattutto quella grande fetta di incertezza. Oggi c'è una grandissima incertezza legata al non sapere che cosa accadrà. Bene, quindi alcuni elementi che possiamo apprendere da ciò che oggi le organizzazioni hanno in mente di fare ma che evidentemente dobbiamo, su cui dobbiamo fare delle grandi riflessioni. E poi che cosa ne pensano i lavoratori? Ecco, qui vi do alcuni dati che secondo me sono molto importanti. Al di là del dibattito un po' sinusoidale che c'è stato in questo periodo, coloro che hanno provato, sperimentato lo smart working hanno le idee molto chiare. Cioè esiste tutto sommato una minoranza di lavoratori che è tornato a lavorare in presenza e vorrebbe continuare a lavorare in presenza. Vedete, sono però un 14%, in altre rilevazioni le avevamo stimate attorno al 10% e quindi tutto sommato consistente anche nonostante il cambiamento di mood. C'è un 53% dei lavoratori che invece intende passare a questo modello di lavoro ibrido quindi non vuole perdere ciò che ha preso ma riconosce anche il bisogno, l'esigenza, il valore della relazione in presenza. Poi c'è un fenomeno non trascurabile cioè un lavoratore su tre che oggi desidererebbe continuare a lavorare totalmente da remoto. Ecco, in alcuni casi questo può essere anche sostenibile, possibile in altri può risultare incompatibile rispetto anche a obiettivi di socializzazione, di identità, di collaborazione. Allora sicuramente in questo momento organizzazione, individui devono confrontarsi su quelle che sono le nuove attese, le nuove aspirazioni dei lavoratori. E poi sapere che anche coloro che oggi sono stati esclusi da questa rivoluzione in realtà vorrebbero almeno in parte avere, godere di alcune opportunità di flessibilità, di autonomia e ritengono che il loro lavoro lo consentirebbero. Vedete, addirittura questo vale per l'80% dei lavoratori che non hanno potuto sperimentare lo smart working. Insomma, siamo ancora in una fase di rivoluzione incompiuta e poi cercheremo di capire che cosa questo vuol dire. Detto questo, ciò che tutti dicono, attenzione, non possiamo prescindere da questo grande, da questo grande fenomeno, grande opportunità di apprendimento per costruire, per costruire il futuro. Allora facciamolo insieme. Corrado, a te. C'è già disponibile, come vedete in visualizzazione, il secondo poll, se il primo è stato un po' più un sino, forse con qualche difficoltà, qui andiamo nello specifico a capire in quali ambiti c'è stato appunto, in questo caso, una migliore efficacia del lavoro da remoto. Quindi la domanda è la seguente. Su quale principale aspetto ritieni che l'efficacia del lavoro del team sia migliorata? Vi chiediamo di sceglierne una solamente. Efficienza nel lavoro, velocità dello svolgere attività, quantità di output, a parità di tempo, eccetera. Supporto all'innovazione, maggiore tempo a disposizione, per ripensare processi o attività e sviluppare nuove idee. Oppure autonomia, responsabilizzazione su obiettivi e orientamento ai risultati. Efficacia delle riunioni o condivisione delle informazioni. Di nuovo lasciamo qualche 30 secondi, 40 secondi. Non so se anche su questo, Mariano, hai qualche... Certo, poi Corrado, poi chiediamo anche evidentemente... L'opposto, non volevo svelarlo. Non facciamo subito uno spoiling. Beh sì, perché una cosa è che sia possibile, altra cosa è che poi sia ragionevolmente, già oggi, con le nostre competenze, con i nostri strumenti, che si sia rivelato già oggi efficace. Allora, attendiamo ancora qualche secondo. Intanto vi chiedo di riflettere anche su quell'elemento su cui ritenete non ci sia stato un miglioramento, ma in realtà un peggioramento. Vediamo cosa accade. Vediamo i risultati. Vediamo i risultati. Eccoci, ecco. In questo caso lo split già è un po' più interessante. Vediamo più della maggioranza assoluta, 51%, 52% hanno apprezzato un'autonomia, responsabilizzazione su obiettivi, orientamento ai risultati maggiore. Vedi, Corrado, questo vuol dire che hanno colto appieno lo spirito dello smart working. Questa è quasi la definizione. E d'altronde da voi me lo aspettavo. E poi questo elemento evidentemente che ci dice abbiamo recuperato, tolto tante inefficienze. Vediamo però il rovescio della medaglia. Faccio subito perfetto. Esattamente, la domanda è la medesima. Il focus in questo caso è peggioramento. Quindi dove avete vissuto o percepito un peggioramento dell'efficacia del lavoro? Le risposte sono le medesime. Diamo magari di nuovo qualche secondo. Qui ti aspetti che tipo di split? È rinvertito? Ecco, vediamo anche gli aspetti positivi. Teniamo conto che noi su questo sicuramente non siamo nati imparati. Su questo certamente c'è da fare due cose. Uno, trovare dei nuovi bilanciamenti. Quindi a questo punto dare al lavoro in presenza una nuova missione. Perché se il lavoro tutto sommato autonomo ci dà questa opportunità di responsabilizzazione, di flessibilità, anche di produttività, la domanda è ma quale deve essere invece la nuova missione del lavorare in presenza? Paradossalmente nei prossimi mesi dovremo imparare a essere più efficaci nel lavoro in ufficio. Cioè dare una missione, dare un senso a quello che è il lavoro. Può essere magari questa una possibile risposta alla critica tipica del sistema lavorativo italiano della scarsa produttività delle ore, questo recupero di efficienza? Assolutamente. Guarda, noi l'abbiamo anche misurato. Cioè quello che è il tipico incremento in termini di produttività a livello di interi uffici già pre-pandemia era intorno al 15-20%. Quindi in realtà può essere un grande strumento di recupero di produttività. Però evidentemente nell'equilibrio bisogna... La produttività non è tutto. Ok, i risultati sono pronti. Anche qui, non so se ti aspettavi, un 50% delle persone ci dicono che hanno perso qualcosa nella condivisione delle informazioni e qualcuno nell'efficacia delle riunioni. Secondo me questo è molto comprensibile e ci fa fare una riflessione perché non è che con le piattaforme digitali, con il lavoro in remoto non si possano condividere le informazioni. Abbiamo visto che in realtà anche determinate riunioni, determinati modi anche di fare formazione, comunicazione, pensate anche a questo talk, sono estremamente efficaci. Ma i nostri modelli organizzativi sono anche un po' progettati per la serendipity, per la possibilità di incontri non pianificati, della piacevolezza anche di una chiacchierata al caffè. Ecco, queste cose, che pure sono importanti, nel mondo digitale non accadono, vanno programmate, vanno pianificate, allora quando ribilanciamo il nostro modo di lavorare dobbiamo ritrovare lo spazio per questi momenti di clash, di condivisione, di serendipity. Bene, molto bene, allora possiamo continuare con la nostra presentazione. e che cosa abbiamo imparato? Proviamo a sintetizzare, quindi abbiamo imparato che è possibile, che ci dà una grande continuità di business, quindi mai più senza. Abbiamo anche imparato da queste ultime poll che ci sono elementi su cui il lavoro da remoto può essere sorprendentemente efficace. Abbiamo capito anche che le persone, molti nostri stereotipi sulle persone si sono frantumati, perché abbiamo capito che le persone poste nelle giuste condizioni sono in grado di sviluppare nuovi comportamenti, di apprendere nuovi strumenti. Ecco, abbiamo fatto dei salti da questo punto di vista notevoli e infine abbiamo capito, stiamo capendo che in realtà quando lo smart working va in scala, non solo cambia l'organizzazione del lavoro e migliora un po' la nostra vita personale, ma cambia proprio i modelli di vita, cambia i modelli di società, può cambiare anche più in grande la nostra società. E credo quindi che il prossimo anno sarà ancora di più un laboratorio di apprendimento per tutti noi. Un laboratorio in cui impareremo a trovare dei nuovi bilanciamenti perché un modello di lavoro sia intelligente, perché il bilanciamento, lo dicevamo all'inizio con Maurizio, quale deve essere il bilanciamento corretto in questo ibrido? Beh, deve essere un bilanciamento intelligente che tiene conto quindi di quella che è di quelle che sono le condizioni al contorno, quindi ciò che è intelligente oggi a novembre del 2021 è diverso da quello che era intelligente a maggio del 2020 e diverso auspicabilmente da quello che sarà possibile intelligente nella prossima primavera. E quindi trovare questi bilanciamenti, approfondire culturalmente il significato dello smart working. Lo smart working è un'innovazione di significato, non è tecnologia, non è regolazione, è un diverso modo di concepirsi al lavoro. Anche su questo Maurizio aveva dato alcuni segnali molto importanti. Dobbiamo avere il coraggio di mettere mano anche a tante regole, a tante ragnatele sul nostro quadro contrattuale di anche un po' a volte di regolazione a livello più ampio, a livello anche di relazioni industriali e dobbiamo accompagnare un fenomeno che può avere grandi impatti positivi ma va accompagnato perché sposta ricchezza, sposta bisogni. Quindi una sfida grandissima, una sfida che io vi direi a tutti i livelli e noi, voi, dovete essere partecipi di questa sfida ad ogni livello, dovete esserlo come individui, come persone, come professionisti perché dovete trovare un equilibrio che vi permette di dare il meglio di voi e anche di essere, usiamola questa parola, anche di essere felici, di essere migliori e più felici. Le organizzazioni, stiamo entrando in una nuova fase di competizione in cui la capacità di interpretare ciò che sta accadendo farà la differenza sul mercato del lavoro ma anche proprio dal punto di vista dell'efficienza, dell'efficacia, dell'innovatività e poi un challenge, lasciatemi dire, anche per la società nel suo insieme. allora pochi elementi su questi, sfida per le persone, che momento stiamo gestendo adesso? Beh se ne parla tanto, cioè sono due anni che ci hanno messo psicologicamente alla prova e non soltanto chi ha lavorato da remoto, in realtà questo lo abbiamo dimostrato con i dati che abbiamo appena presentato, in realtà vale un po' per tutti, c'è stata questa difficoltà, questo forte anche logoramento di alcune relazioni organizzative quindi dobbiamo ritrovare energia, ritrovare entusiasmo, quello che chiamiamo engagement è una sfida per le organizzazioni ma fatemi dire è anche una sfida per le persone perché essere pienamente realizzati e ingaggiati nel proprio lavoro è ciò che fa star bene è ciò che fa essere anche delle persone più realizzate e quindi questo oggi è un fenomeno di cui si parla tantissimo ed è una sfida è una sfida per noi tutti e poi c'è quella sfida di cui parlavo anche prima cioè saper essere attivi nella propria relazione con i nuovi strumenti con i nuovi canali con le nuove tecnologie passare da una gestione del tempo il tempo è diventato molto più liquido nella nostra giornata e dobbiamo passare anche a una gestione della nostra attenzione conoscerci ascoltarci e saper gestire al meglio le nostre capacità sfruttando quelle io li chiamo un po' dei superpoteri la tecnologia ci dà dei superpoteri ma di questi superpoteri bisogna imparare responsabilmente a fare un buon uso per sé per la propria famiglia e per la propria azienda poi sfide per le organizzazioni ci sono almeno sei elementi di grande sfida che in questo momento viviamo consolidare le policy di smart working oggi le aziende in molti casi parlano due giorni tre giorni cercano di dare un quadro alle persone di come sarà fatto questo mondo ibrido ecco bisogna effettivamente avere anche la capacità di fare un passettino in più cioè riempire di significato queste regole ridare un senso agli spazi lavorativi perché certo anche qui i generali è un'organizzazione che ci ha pensato già per tempo ma bisogna andare avanti cioè ridefinire la missione degli spazi e in funzione di questa missione ridefinire anche il layout ma anche la localizzazione stessa degli spazi non perdere questo abbrivio nello sviluppo di nuove competenze abbiamo imparato tantissimo negli ultimi due anni ma questo è ossigeno per noi e per la nostra professionalità non bisogna fermarci bisogna ripartire dalle persone e aiutare questo per l'organizzazione oggi è una grande sfida aiutarle a ritrovare engagement e anche a trovare un benessere personale lavorare con i capi e questo anche Maurizio lo diceva quello che bisogna sviluppare un nuovo modello di leadership che non sia una leadership a distanza deve essere una leadership connessa cioè la tecnologia ci deve aiutare ad essere più vicini non più lontani e poi lo dicevo prima darci una nuova disciplina delle nuove regole che ci facciano vivere e lavorare meglio insieme ecco un piccolo zoom su quale dovrebbe essere il ruolo dei leader li chiamo leader più che manager perché quello della leadership è una sfida collettiva cioè dovremmo sentirci tutti un po' chiamati a essere leader in questa trasformazione dentro il nostro team e allora sentirci un po' come degli architetti architetti che costruiscono ponti di significato di appartenenza per noi e per le nostre per i nostri colleghi per le persone che lavorano con noi quindi dare un senso distintivo al fatto di essere parte di un'organizzazione dovremmo essere un po' anche dei personal trainer delle performance nostre e quelle delle nostre persone c'è tanta enfasi sul fatto di misurare gli indicatori misurare i risultati misurare il raggiungimento degli obiettivi ma c'è qualcosa in più in realtà nell'essere leader il tema non è misurare la performance il tema è creare la performance e questo vuol dire ascoltare ascoltarsi ascoltare le altre persone e saper promuovere quelle che sono le capacità e anche la volontà degli altri di essere più efficaci bisogna essere dei broker di flessibilità cioè scambiare fiducia e flessibilità con l'organizzazione e con ogni persona in modo da costruire degli abiti su misura ecco lo smart working è la fine della omologazione in qualche modo con lo smart working noi abbiamo la possibilità di costruirci in questo scambio di fiducia anche un abito su misura che ci faccia davvero star meglio infine infine ecco questa fine dell'omologazione ci porta anche a cercare di essere più autentici questa invasione della sfera privata nella sfera lavorativa e viceversa oggi ci insegna qualcosa che per essere efficaci dobbiamo essere persone più vere e questo vuol dire anche essere in grado di presentarci con tutte le nostre le nostre felpe la nostra quotidianità ecco possiamo arrivare ad avere un'organizzazione più umana più capace anche di mettere le persone in grado di esporre quelle che sono anche i loro punti le loro caratteristiche personali a volte anche le loro stranezze e cercare di orchestrarle dentro un team ecco questa è un'organizzazione più vera più inclusiva ed è un'organizzazione che può migliorare il senso delle nostre città le città il nostro modello anche di vita di sviluppo può diventare più sostenibile più umano e può creare una società più inclusiva si parla tantissimo quando si parla di inclusione del genere come se la diversità per noi fosse il fatto di essere maschio e femmina ecco la varietà la inclusività può essere molto più grande possiamo andare a rompere quelle che oggi sono un po' delle fenomeni di esclusione a livello di età pensate anche dal punto di vista della confidenza informatica le abilità le diverse abilità che grazie a un modello più flessibile meritocratico possono emergere e poi la localizzazione cioè questa è una grande opportunità di dare pari opportunità a chi decide o ha bisogno di lavorare anche magari fuori dai grandi centri urbani ecco questo è possibile ma non è come dire non è un caso bisogna volerlo e bisogna progettarlo dobbiamo stare anche attenti perché adesso nei prossimi mesi abbiamo una grande occasione questa è una slide che ho presentato alla nostra commissione lavoro in Parlamento della Camera dei Deputati per cercare di spiegare cosa c'è in ballo oggi abbiamo circa 4 milioni di persone che fanno smart working c'è abbiamo visto che il potenziale è di almeno 6 milioni e mezzo quindi c'è oggi un potenziale perso di persone che già oggi potrebbero lavorare in modo diverso e non lo fanno questo che cosa vuol dire come cittadini a che cosa stiamo rinunciando beh stiamo rinunciando a un grandissimo beneficio ambientale stiamo rinunciando a una produttività a livello paese stiamo rinunciando anche a livello sociale a dare benessere insomma chiudo dobbiamo volere che nella nostra organizzazione nel nostro team anche nella nostra nel nostro nel nostro paese questa nuova fase del mercato del lavoro della competitività sia qualcosa che dà vantaggi e dà vantaggi a tutti perché io credo che una crisi come quella che abbiamo che abbiamo vissuto non vada sprecata grazie corrado grazie a te mariano grazie per i dati per gli spunti e le considerazioni su dove andremo dove andrà il futuro perché sono sicuramente sempre di grandissimo stimolo e grandissimo interesse per quanto riguarda il momento di Q&A che ci occuperà diciamo per il resto di questa mattinata quindi abbiamo circa un quarto d'ora per le domande volevo partire da una prima domanda che è una domanda iniziale tu hai citato proprio all'inizio della tua presentazione cos'è lo smart working e magari credo fino al 2019 si parlava molto di telelavoro più che di smart working quindi la domanda è la seguente mantenendo comunque lo stesso orario di lavoro dell'ufficio possiamo davvero parlare di smart working o parliamo di telelavoro ancora non si dovrebbe puntare anche da una maggiore flessibilità anche da questo punto di vista qual è la tua opinione su questo smart working è solo cosa obiettivo o anche un frame dal punto di vista temporale allora questa è un'ottima domanda perché lo smart working credo lo abbiamo visto lo abbiamo detto non è semplicemente il lavorare da un altro luogo questo è il telework o il working from home in realtà abbiamo capito che se si lascia l'organizzazione rigida e si trasla semplicemente la postazione di lavoro nella nostra abitazione in realtà abbiamo più stress che non il vero vantaggio il vero vantaggio qual è? è quello di dare maggiore autonomia e quindi poter avere maggiore maggiore poi responsabilità ecco detto questo è evidente che le organizzazioni a volte hanno bisogno di un percorso e quindi creare sicuramente pensare al fatto di lavorare a casa con lo stesso tipo di orario come un punto di arrivo è molto fuorviante se però è un passaggio può avere un suo primo senso certo sempre su questa scia quindi del cambiamento delle organizzazioni il ruolo cruciale è quello dei manager credo la domanda è appunto la seguente buongiorno dottor Corso come vede il vecchio manager in questo mondo dove sarebbe meglio la presenza e non il remoto come possiamo aiutarli nel cambiamento aggiungo io una chiosa finale in quelle percentuali quanti vorrebbero tornare dal vivo sono più o meno a favore diciamo i manager leader rispetto magari al personale allora qui mi rifaccio anche ad alcune cose che diceva Maurizio all'inizio in cui io credo tantissimo cioè lo smart working non genera un nuovo tipo di capi lo smart working è una palestra ed è anche un po' una cartina di tornasole di quei modelli di leadership di quegli stili di leadership che oggi creano valore creano vantaggio competitivo creano velocità non irrigidiscono e rallentano l'organizzazione quindi il tema non è tanto se lo smart working come dire lascia spazio a un determinato tipo di manager in realtà questi manager lo spazio già non ce l'hanno quindi vediamo piuttosto lo smart working come una palestra cioè lo smart working aiuta i manager più tradizionali a imparare a fare alcune cose riconoscere i processi definire degli indicatori dare degli obiettivi dare feedback valutare in base ai risultati ma questi non è che sono fatemi dire buone pratiche che vanno introdotte perché c'è lo smart working è un po' il contrario lo smart working aiuta a allenare queste buone pratiche di leadership e di management che sono quelle che poi danno valore indipendentemente dalla presenza o dalla distanza o dal specifico modello organizzativo chiarissimo sono arrivate un paio di domande relative al sistema paese che ho piacere di mettere insieme la prima riguarda lei si concentra molto sulla divisione dell'approccio allo smart working tra grandi imprese PA e PMI questa domanda è potrebbe l'incertezza della PMI allo smart working futuro essere un limite di crescita del sistema paese e la vorrei unire anche alla seguente domanda qual è l'impatto dello smart working sull'economia reale soprattutto nel tema della delocalizzazione non più l'aggregazione nei vari centri urbani in altre parole lo svolgimento del lavoro in casa come impatta verso le attività commerciali non so se è una riflessione generale che possa si sono due temi un pochino diversi proviamo a metterli assieme allora il primo il fatto che la nostra piccola media impresa e ci metterei anche la nostra pubblica amministrazione in realtà abbiano dei un po' dei retaggi culturali che oggi li prevengono in qualche modo dall'applicazione dello smart working è un limite però anche qui non dobbiamo fare questa inversione causa-effetto cioè il problema non è lo smart working lo smart working è una leva l'obiettivo finale è proprio quello di dare una scossa culturale alle nostre organizzazioni dare maggiore produttività e la piccola media impresa così come la pubblica amministrazione sono comparti troppo importanti soprattutto in questa fase di ripresa per essere lasciati soli quindi dobbiamo assolutamente stare vicino alla piccola impresa alla pubblica amministrazione perché possa cogliere questo tipo di opportunità anche per un fatto evidente cioè sul mercato del lavoro l'essere capace di offrire questo tipo di modello di lavoro di flessibilità di autonomia oggi è visto come premiante anzi quasi come una condizione da per qualificarsi sul mondo del lavoro e allora creare queste differenze vorrebbe dire anche condannare una parte della piccola impresa una parte della pubblica amministrazione a risultare diciamo non attrattive per i talenti e questo sarebbe difficilissimo infine l'impatto sull'economia reale allora l'economia reale in realtà è tante cose l'economia reale non sono solo l'indotto della ristorazione dei panini allora qualunque rivoluzione industriale tecnologica sposta i bisogni e ne crea di nuovi lo smart working in realtà non è il lavorare da casa è lavorare in modo più flessibile ridefinisce anche i territori li definisce la città e sposta quindi i bisogni va accompagnato sicuramente ma noi stiamo vedendo tantissimi elementi positivi quindi nuovi modelli di business nuove aree che si sviluppano che crescono addirittura un'inversione in alcuni casi dello spopolamento di aree interne e città del sud quindi io credo che da una maggiore sostenibilità nel sistema dei trasporti nel sistema urbanistico non possa che venire un modello migliore e più attrattivo se lo gestiamo con intelligenza poi nessuno parla di una cosa che secondo me è fondamentale che è l'impatto ambientale cioè non possiamo trascurare il fatto che un lavoro intelligente ci porta anche a modelli di sviluppo di vita di trasporti che sono più sostenibili e allora questo oggi non può non essere messo nel radar di quelle che sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere grazie la domanda successiva si lega un po' all'ultima parte della tua presentazione scusami quella relativa a questo tasso magari di abbandono in maggior disagio che si inizia a vedere nei lavoratori e la domanda è le conseguenze psicologiche sul lavoro solitario sono state studiate hai qualche dato in tal senso assolutamente un po' di dati noi li presenteramo come vi dicevo l'aumento di disagio psicologico si è registrato direi quasi praticamente in ugual misura tra gli smart worker e tra i non smart worker quindi non c'è dubbio che bisogna fare grande attenzione a quello che è l'impatto psicologico anche di un sfilacciamento organizzativo e infatti come dicevo oggi il lavoro veramente intelligente deve essere innanzitutto quello che torniamo a rifare in ufficio quindi trovare dei nuovi equilibri che ci permettano di riappropriarci della piacevolezza del vantaggio di condividere una serie in presenza una serie di momenti questo non vuol dire tornare indietro sullo smart working lo smart working è proprio la possibilità di scegliere di lavorare per obiettivi potendo scegliere i luoghi migliori per determinate attività e il primo luogo in cui fare smart working io non ho dubbi non è la casa è l'ufficio quindi dobbiamo ripensare come dicevamo prima i nostri modi in cui anche lavoriamo condividiamo ma dobbiamo dare a questa condivisione a questa copresenza anche maggiore maturità maggiore significato grazie la domanda successiva è molto operativa e che tocca probabilmente quello che mi ricordo male il 25% delle persone toccava come difficoltà è la condivisione delle informazioni probabilmente la domanda è sulla formazione la formazione dei lavoratori in remoto è ritenuta difficoltosa ci dice il partecipante lei nota questo concetto anche sulla base delle tue scusami delle tue ricerche e se hai qualche suggerimento visto magari questo potrebbe essere uno dei temi dove usarlo con valore il lavoro allora in realtà la formazione non da remoto io ogni volta che si parla di distante da remoto di tele ho alcune segnali un po' di orticaria in realtà quella su cui dobbiamo andare una formazione smart una formazione che io chiamerei connessa è un mix intelligente cosa abbiamo imparato questi due anni essendo forzati abbiamo imparato che si può con autonomia con personalizzazione con grande flessibilità fruire di tutta una serie di contenuti di stimoli anche a distanza pensate questo talk sarebbe stato impossibile inefficace avrebbe comunque toccato una piccola parte delle persone e sarebbe rimasto lì invece diventa qualcosa che può essere un valore di cui fruire andare a rivedere quindi la tecnologia da continuità è un po' secondo me una rivoluzione come è stata la rivoluzione quando si è passati dalla formazione dallo scambio di conoscenza soltanto verbale per cui si cantavano a quando abbiamo cominciato ad avere dei libri anche lì è stata una rivoluzione non è che ha impoverito ecco lo switch off digitale che abbiamo avuto in realtà se oggi ricomposto in una formazione connessa ci permette di andare verso uno sviluppo che è più personalizzato preciso contestuale intelligente delle nostre capacità e competenze e quindi dobbiamo allora io credo che la tecnologia che è il digitale ci dia anche dei superpoteri di apprendimento possibile e quindi se noi li capiamo a livello individuale a livello organizzativo cerchiamo di usare il meglio e poi ogni tanto qualche bel momento di formazione assieme ci darà anche la voglia di essere parte di un'organizzazione grazie Mariano abbiamo ancora tempo per un paio di domande anche la successiva è diciamo molto operativa che tocca un po' quel cambiamento culturale che ci hai citato spesso come abilitante per uno smart working di successo quanto crede che sia fondamentale per il successo dell'organizzazione ibrida del lavoro la capacità dei singoli di auto organizzarsi quindi pianificare tra i colleghi giorni le attività da svolgere in presenza e soprattutto cosa possono fare le aziende per favorire questa auto organizzazione spontanea allora quanto è fondamentale è definitoria cioè la tecnologia il lavorare a distanza non sono definitori di un modello di organizzazione del lavoro smart invece l'autonomia l'autoresponsabilizzazione lo è quindi assolutamente diciamo la possibilità di lavorare a distanza di distribuire diversamente nell'orario nella giornata a seconda anche delle proprie esigenze del proprio bioritmo di produttività le diverse attività è funzionale poi a questa a questo aumento anche di orientamento agli obiettivi quindi lo smart working in sé è proprio la modalità di favorirlo allora che cosa possono fare le organizzazioni ci sono due cose che occorre fare la prima è dare coaching fare formazione alle persone anche su aspetti come gestire la propria giornata scegliere il giusto luogo di lavoro gestire appunto il proprio il proprio tempo conoscendo un po' se stessi e quindi ci sono tanti elementi diventare più efficace nella propria comunicazione multicanale quindi dobbiamo rimparare come dicevo a lavorare mixando diversamente adesso presenza e distanza per usare al meglio questi nuovi superpoteri che abbiamo acquisito l'altra cosa che può fare l'organizzazione deve fare è aiutare in questo processo i capi leader perché se aiuto i capi aiuto molto l'organizzazione perché lo smart working è un modello organizzativo ma innanzitutto una filosofia di leadership quindi se io ho un capo che crea questa spirale di autonomia di fiducia e beh poi tutto comincia gradualmente a funzionare grazie Mariano ti chiedo magari sintetizzando un po' la prossima domanda perché ha un concetto molto interessante secondo me che è quello dell'identikit dello smart worker la domanda appunto è il nuovo identikit dello smart worker quali saranno le qualità che si accentueranno e cosa rischia di assopirsi o di scomparire in generale appunto facendo un po' di sintesi cosa serve di più cosa serve di meno cosa bisogna sviluppare per fare bene smart working a livello come ultima domanda è un po' complessa però scelgo una metafora che vorrei lasciarvi che è quella della imprenditorialità ecco io credo che lo smart worker non sia la giusta metafora per lo smart worker non sia quella del professionista autonomo quello che poi lavora in una rete in cui occasionalmente si incontra con altri ma è di fatto un qualcuno che dà una prestazione in qualche modo sua autonoma da professionista credo che la metafora giusta sia quella dell'imprenditore un imprenditore che vuole che crede in un progetto che vuole sviluppare questo progetto dentro un'organizzazione e quindi cerca di ingaggiarsi al meglio e di essere quindi autonomo responsabile ma anche di influire di essere leader rispetto a quella che è la sua organizzazione rispetto a quella che è il suo team secondo me il lavoratore più smart è proprio quello che sa essere grazie mille per la capacità di sintesi su un argomento una domanda così difficile e complicata come ultima ci tengo quindi a ringraziare nuovamente il professor Mariano Corso per averci accompagnato in questa conclusione di questo ciclo ci tengo a ringraziare tutti i collegati che ci hanno seguito dall'inizio di questo ciclo che si va oggi a concludere ricordo questo era l'ultimo appuntamento del ciclo Tantantalks 2021 tematica chiave era ibridazione che credo sia stata ampiamente al centro del dibattito odierno ci tengo a salutare tutti quanti voi augurandovi una buona conclusione di 2021 tutto quello